A 20 anni dall'avvio della raccolta differenziata nel comune di Baronissi, Legambiente ha voluto rendere omaggio al modello virtuoso messo in campo nella città della Valle dell'Irno, un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni e cittadini e che nel tempo ha garantito risultati da record. Siamo gradualmente arrivati a punte importanti, l'86%, ma il centro di raccolta differenziata, l'isola ecologica, che è una realtà, la differenziata che si conferisce due volte al mese e questo significa la diligenza, l'attenzione, la collaborazione dei cittadini, insomma è un mix cittadini, azienda, amministrazione comunale. In Campania fortunatamente tanti altri comuni sono riusciti ad emulare il modello Baronissi, migliorando nel tempo le percentuali di raccolta differenziata. Baronissi, Mercato San Severino, Salerno, ma tantissimi comuni di questa regione oggi superano l'obiettivo minimo di 65% di raccolta differenziata e devo dire che molti di questi lo fanno anche molto bene. Per legambiente tuttavia è necessario fare ancora di più. Adesso bisogna puntare sulla qualità, le quantità si avvicinano agli standard previsti dalla legge, le percentuali che sono previste dall'Unione Europea, bisogna però fare di più, bisogna fare meglio.